Alla fine di un'estate bollente, possiamo dire che le vicende degli scontini pazzi è sfuggita di mano un po' a tutti, ristoratori e consumatori compresi. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, iniziando dalla debito di 2 euro per aver chiesto in un bar di Como di dividere un tos a metà con un piattino vuoto. Ma anche i 2 euro pagati per dividere in due un piatto di trofio al pesto a finalburgo. Prima ancora di sedersi il cliente può notare sempre la stessa scritta sul menu che è appeso all'esterno della mia attività. Ma da nord a sud della penisola le disavventure sono molteplici ed è di pochi giorni fa la notizia di alcuni clienti che si scagliano contro il ristorante per aver pagato 3 pizze a 60 euro con il titolare che per tutta risposta dichiara a consumare al tavolo erano in otto. La CNN mette in guardia i turisti stranieri dalle fregature. E ieri sera è proprio il TG1 a rilanciare un editoriale della CNN che mette in guardia i turisti stranieri dalle fregature facendo arrivare oltre oceano le vicissitudini del bel paese. L'emittente americana li cita tutti, ma proprio tutti, i casi dei prezzi pazzi degli scontri italiani. Dai 2 euro del famoso sandwich a metà, i 2 euro per far riscaldare un biberon al microonde ad Ostia, ai 60 euro per due caffè e due bottiglie d'acqua in Sardegna. L'estate italiana passa così alla storia come una delle più costose, con prezzi gonfiati a danno di turisti italiani e stranieri e con clienti sempre più attenti a prezzi folli e fregature in agguato.